segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora sono molto contenta che tu sia qua perché ho promesso ai miei telespettatori che a questo punto arrivava una buona notizia e in effetti sei qua per raccontarci spiegarci quanto la notizia che voglio dare è una buona notizia dunque dagli stati uniti arriva appunto una notizia importante di cosa si tratta si tratta del fatto che si è riusciti per la prima volta ad ottenere più energia di quella utilizzata per far funzionare quella che è la macchina nella quale si sperimenta la fusione nucleare per chi non sapesse nulla di fusione nucleare per chi avesse le idee confuse la fusione nucleare è quel sistema che ci porta all'interno del sole dove gli atomi vengono spremuti tra di loro si fondano e buttano fuori tutta quell'energia che ci arriva tutti i giorni l'uomo sta provando a fare questo però è difficilissimo perché nel sole ci sono temperature di milioni di gradi ci sono pressioni elevatissime e tutto questo lo dobbiamo riprodurre il laboratorio allora ci sono tante strade o meglio ce ne sono due che vengono seguite dai più ma ce ne sono diverse e una di queste strade è quella seguita dagli stati uniti ossia bombardare gli atomi di idrogeno che sono atomi i più piccoli atomi qui li vediamo questi ecco bombardarli per cercare di farli fondere e far uscire l'energia fino ad oggi bombardarli con dei raggi laser che vediamo in queste immagini raggi laser i più potenti al mondo che bombardano questi atomi e però ci vuole tantissima energia e per la prima volta questa energia che è stata immessa ha prodotto questa fusione che ha è buttato fuori più energia di quella immessa ecco tutto questo è bene nel campo dell'energia è così cioè così rivoluzionario così importante è molto importante però attenzione bene per creare una centrale costruire una centrale a fusione nucleare noi siamo in una situazione simile a questa immaginate di voler costruire un'automobile non sappiamo ancora come si fa noi stiamo lavorando dentro un pistone dell'automobile stiamo cercando di far bruciare la benzina dentro un pistone se ci riusciamo come hanno come sono riusciti in america beh dovremo poi costruire il motore e quindi passeranno anni 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 e poi finalmente costruiremo l'automobile quindi il passettino che è stato fatto è sì importantissimo ma è davvero un piccolo piccolo passo non dobbiamo farci prendere da così entusiasmi sapete io ho circa 60 anni beh quando avevo vent'anni sentivo dire ci vorranno 50 anni per avere la fusione a 40 la stessa cosa a 60 ancora la stessa cosa perché la fusione è complicatissima è difficilissima voi pensate che dobbiamo ottenere degli atomi a temperature di 100 milioni di gradi questo è un altro sistema però più o meno simile senza farli scontrare per farli girare velocissimi e poi farli scontrare quindi bisogna trovare dei meccanismi che sono dei super magneti noi in europa stiamo studiando questa cosa per tenerli sospesi fino a farli scontrare da quanto tempo noi la stiamo studiando questa cosa la stiamo studiando da da quando è nata la fusione nucleare cioè da quando noi abbiamo capito che si poteva ottenere energia facendo fondere gli atomi quindi parliamo di 60 70 anni fa certo siamo passati attraverso la fissione nucleare che quella delle centrali nucleari dei nostri giorni che più semplice perché lì gli atomi si spaccano anziché farli fondere però creano tutti quelli che sono radioattivi che dobbiamo tenerci in cantina per decine centinaia di migliaia di anni questa fusione invece non produce scorie o comunque ne produce pochissime e che decadono in brevissimo tempo quindi scusami la differenza diciamo con l'energia nucleare che utilizziamo oggi è intanto differenza significativa rispetto alle scorie se capisco bene giusto esattamente niente scorie sopra prima cosa seconda cosa nessun pericolo perché mentre nella fissione c'è quella dei nostri giorni è difficile bloccare il meccanismo a cernobil non si è riusciti a bloccare il meccanismo della fissione qui invece se succede un incidente si spegne tutto di colpo e quindi non può esplodere questo è il secondo grande elemento terzo elemento utilizziamo dei minerali degli atomi scusate che sono abbondantissimi l'idrogeno lo troviamo negli oceani un esempio con un bicchierino d'acqua potremmo fare andare avanti tutta l'italia per un anno intero e questo scusa mi significherebbe anche libertà da dai fossili assolutamente totale libertà a quando arriveremo la fusione purtroppo né lei guardi e nemmeno io accenderemo la nostra lampadina per prendere le distanze già e questo non è bello questo non è bello però io sono felicissimo di lasciare i nostri figli il fatto che potranno veramente accendere tutte le luci che vorranno potranno davvero con le automobili elettriche senza problemi perché questa è una strada importante ripeto però fra 45 ma io ho sentito parlare di una ventina una trentina di anni no sono troppo ottimistiche queste previsioni voi cerchiamo di essere ottimisti benissimo abbassiamo a 30 anni c'è da dire un fatto però che ci sono che in questo momento ci sono tante società private una trentina di società private che stanno lavorando in silenzio perché sono migliorati tantissimo i software le tecnologie e stanno raccogliendo un sacco di soldi si parla di oltre due miliardi di euro di dollari per lavorare lavorano da privati un po sono le società simili a spacex per quanto riguarda lo spazio e dicono qualcuno di questa società dice che entro il 2030 potrebbero mettere in circolazione le prime piccole centrali a fusione io ci credo relativamente ci spero ma ci credo poco aspetta perché tu dici potrebbero metterle diciamo a produrre energia su vasta scala se capisco bene intendi questo no perché poi di questo dobbiamo parlare tu fai gli esperimenti e poi decidi quello strumento lo utilizzi su vasta scala però noi stiamo parlando degli americani cioè questo esperimento è stato fatto negli stati uniti come funziona in questi casi noi stiamo lavorando anche noi in questa direzione sì noi stiamo lavorando con il più grande progetto al mondo che si trova in francia è il progetto chiamato iter un progetto dove c'è l'europa ci sono gli stati uniti il giappone ci sono tantissime nazioni lì si usa si studia un altro sistema il sistema dove anziché far fondere gli atomi bombardandoli con il laser lì vengono fatti scontrare all'interno di macchine gigantesche che si sono macchine toroidali e hanno la forma diciamo di una ciambella dove dei campi magnetici fortissimi fanno scontrare poi gli atomi quindi una strada parallela e però siamo veramente un po agli inizi perché non abbiamo ancora finito di costruire quello che sarà il nostro pistone dell'automobile cioè dove impareremo a fare la fusione soltanto quando si avremmo imparato e qui parliamo di almeno 2035 dopodiché si costruirà il motore della nostra automobile qui in europa e quindi andremo nel 2040 e soltanto ecco perché dico 2050 ecco perché i nipoti dici eh mi sa che i nipotini senti da ultimo ti chiedo